Facciamole basta, se no, amen. Vado, ok? Ok? Vai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Salve a tutti Blazers e bentornati nella serie di sopravvivenza, bentornati anche nella normalità in un certo senso, dopo l'ultimo evento che ci ha scosso davvero nel profondo. Ma oggi siamo qui per parlare di ben altro, perché abbiamo installato lo snapshot nuovo, quello che avete visto ieri sul canale, vale a dire il 19v41a. Prima di andare a dormire, vediamo se... no, ormai è totalmente sera, vi giuro che appena stavo per iniziare a registrare, mi guardo dalla finestra ed è arrivata la notte. Non l'ho fatto apposta, è che stavo preparando delle cose e il tempo che ho preparato, mi sono messo lì, era venuta notte, quindi dormiamo. L'avete vista la review di ieri? Se non l'avete vista, ragazzi, recuperatela, perché ci sta. È un bello snapshot, finalmente hanno aggiunto altri contenuti che forse saranno gli ultimi di questa versione 1.15. Tra l'altro, guardate la mia ombra in questo momento, sotto i miei piedi. Vedete che buca il vetro? O perlomeno l'acqua, credo, perché il vetro è già trasparente, ma in qualche modo annulla l'acqua sotto. Boh, ci sono un sacco di problemi di rendering anche questa volta. Vediamo qua, non si vede niente, ma vi faccio vedere nelle ceste. Ehi, prima di cominciare lasciatemi ricordare per l'ultima volta che domani sarò alla Games Challenge di Ferrara. Se siete di Ferrara o dei dintorni e volete venirci a trovare, ci siamo io, Tiar e Dani sul palco della fiera alle ore 15 e poi dalle ore 16 per il meet and greet. Vi lascio al video e nel caso ci vediamo domani. Vabbè, al di là dell'item frame, che sono stranamente bui, se guardate, questi no, ma quello lì in orizzontale dovrebbe avere da qualche parte, ecco, una campana. Cioè, guardate, non so, magari gli oggetti incantati sotto. Oh, sono abbastanza a posto. Però stanno continuando a sistemare il sistema di rendering del gioco. E sono usciti altri bug, come al solito. Quindi speriamo li risolvano in fretta, così che esca all'1.15, che poi potremo puntare all'1.16 il più presto possibile. Intanto, ragazzi, mentre vi dico, appunto, di non installare gli snapshot senza fare backup, perché è un grosso rischio, ma ci sono io per voi a prendermi i rischi. Oggi, come vi stavo dicendo, mi occupo del nuovo snapshot e in particolar modo dei due nuovi blocchi, vale a dire l'Honeycomb block e l'Honeyblock stesso. Quindi andiamo un attimino nella zona delle nostre api. Quindi scendiamo qua sotto, perché avevo già preso l'Honeycomb, ma non avevo ancora preso il miele. Perché mi ero dimenticato? In compenso, sai che c'è? Possiamo prendere altro Honeycomb con la mia farm da spia, che praticamente triggera le api, ma poi mi fa scomparire nel nulla. E quindi non possono farmi niente. E poi niente, devo scappare nuotando, come al solito, insomma. E tra l'altro mi sa tanto che non l'ho racconto, è rimasto lì. Quindi ci saranno le api incazzate, io tornerò lì e bam, mi pungeranno e poi moriranno. E dovrò di nuovo fare qualcosa per le farm. Che palma. Ehi, mi avete perdonato? Torno dopo. Buongiorno, posso? Sembrerebbe di sì. Quindi me la rischio? Ok, sembra che mi abbiano perdonato. Allora ragazzi, l'Honeycomb block si crafta in questo modo. Ne potremmo fare due in questo momento. Tac, Honeycomb block. È solamente estetico. Quindi la sfida sarà cercare di utilizzarlo in maniera estetica e decorativa. Il che non è facile perché è un blocco molto particolare. Ma ho trovato un abbinamento che sta molto bene. E ve lo voglio mostrare iniziando anche una cosa che dovevo fare da parecchio tempo. Il blocco di miele, invece, funziona prendendo le bottiglie di miele. Tra l'altro, almeno puliamo la ceste e accumuliamo un po' di miele in questo modo. Dobbiamo mettere quattro bottiglie. Otteniamo l'Honeyblock. Le bottiglie si svuotano. E le possiamo direttamente rimettere anche nella nostra farm. Le vado a convertire tutte quante perché tanto il miele non lo uso mai. E questi blocchi, a differenza dell'Honeycomb, sono alternativi allo stesso slime block. Quindi faranno sempre comodo, anche perché sono meno costose. Le feature che hanno, diciamo, che differiscono dallo slime block non ci interessano per l'uso che ne faremmo nei circuiti. Quindi direi top questo blocco. Ok, ho fatto otto blocchi. Mi avanza una bottiglia, la mettiamo qui. E possiamo già rimettere dentro queste. Le diffondiamo per bene, anche se, vabbè, non è fondamentale. E finiamo la nostra farmata. Usciamo perché ho lasciato anche la bottola aperta. E per fortuna non è scappato nessuno. Nel caso dell'Honeyblock, quello che vorrei andare a fare è testare la sua proprietà appiccicosa lateralmente. Come? Voglio creare un sistema che mi faccia droppare. Anche sono disposto a farlo senza armature, senza feather falling. E devo cadere sull'erba, quindi potenzialmente mortale. Ma voglio vedere se riesco a salvarmi grazie all'appiccicosità del blocco dell'Honeyblock. È messo però lateralmente. Se non l'avete capito lo vedrete poi e capirete cosa voglio fare. Perché tutte le altre funzioni dell'Honeyblock di base sono simili ad altri blocchi. È molto bello come blocco ma va ad aggiungere tante cose già viste insieme. Quindi vorrei sfruttare e analizzare insieme a voi l'unica funzione che è davvero nuova. Quindi la possibilità di rallentare la caduta appiccicandosi lateralmente al blocco. Quindi detto ciò partiamo però dall'Honeyblock block e partiamo prendendo scale di acacia. E se avesse dei blocchi di acacia prendiamo anche quelli. Quindi direi di sì. Ci prendiamo anche una staccionata top e delle lanterne. Ce le ho delle lanterne avanzate e probabilmente saranno nell'asciuglio. Abbiamo aggiornato tanto la base ultimamente ma ci sono tante basi che meriteranno lo stesso trattamento in futuro. Una di queste è la zona giapponese. Il mio castello è ancora bello. Fa anche rima, marcondino di rondello. Ma è abbastanza retro potremmo dire. È abbastanza datato. Anzi volevo aggiornare anche un'altra cosa ma mi sono dimenticato di prendere gli oggetti utili. Quindi arrivo subito. Devo andare un attimino nella farm automatica di pecore arcobaleno che ci dà tutti i tipi di lana se ricordate. Mi serve quella marrone in questo caso. Tra l'altro quanta lana ho. Quando la svuoto sta cosa in effetti perché sono pieno zeppo di blocchi. E rieccoci al nostro bellissimo castello giapponese. Internamente come vi dicevo, a parte che non abbiamo neanche le pressure che mi triggera un po', ma c'è quest'area dove posare le scarpe. Il che ha un po' senso. Che sia un po' più abbassata per richiamare i design giapponesi. Internamente stavo dicendo è molto datato. Cioè potremmo aggiornare con un sacco di dettagli nuovi. Cioè sa proprio di costruzione vecchia. Quello che vorrei fare per integrare l'honeyblock però è sistemare le lampade. Che al momento sono abbastanza brutte anche perché sono attivate da una leva qui dietro. Quindi direi di cominciare levandole. Andrò a creare, tra l'altro guardate la leva quanto è buggata. Se sentite rumori di phantom vi ricordo che è gorico che svolazza qui il nostro phantom domestico. Stavo dicendo che andrò a creare quindi un lampadario. Per fare questo lampadario utilizzerò proprio l'honeyblock. Perché ho trovato una combo che lo rende davvero molto carino. Inabbinata proprio con la caccia che ho raccolto dalle chest. Allora prima di tutto devo rifare il tavolo perché era dannatamente gigante. E davvero brutto. Quindi con dei tappeti marroni andiamo a fare un tavolino che sarà già molto più discreto. E molto più utile alla causa. Quindi andiamo con un po' di pazienza a mettere il blocco qua. Mi servono effettivamente delle corde per fare questo lavoro. Infatti mi sono dimenticato anche quelle. Oddio non è un grosso problema. Se faccio così metto il tappeto anche giù. E poi semplicemente lo spammo sopra. Il problema sarà la parte centrale. Questa parte qui. Che potrei realizzare mettendoci comunque uno slab. È un po' strana come cosa ma potrebbe servire. Ne metterò una sola di lampada. Quindi ci mettiamo qui. Alzo la testa e la piazzo in maniera da metterla assolutamente allineata. Come vedete questo blocco è molto colorato. È molto vivace. E si vede che viene da un alveare cavoli. È una texture molto particolare. Io avevo ipotizzato un utilizzo tipo a modi piastrelle. Ma poi guardandolo bene mi ha ricordato quei soffitti rinascimentali. Non so bene perché. E mi è venuto in mente di piazzarlo in alto anziché in basso. E quindi ho notato che con delle scale di fianco di acacia. Fa un bellissimo effetto. Perché questo legno è molto vicino alla sua colorazione arancione. Quindi presa la caccia prendiamo anche dei blocchi. Li trasmuto subito in bottoni. E li metto in modo da dargli degli orientamenti diversi. In modo da seguire una sorta di spirale. In questo modo abbiamo un dettaglio molto carino. E l'ho voluto fare proprio qua dentro. Perché il tutto si abbina bene su una superficie di betulla. Che richiama la parte più calda e più gialla diciamo. Del blocco onicomb. Infine ragazzi prendiamo una staccionata. La metto sotto. Così andiamo a fondere il tutto ancora meglio. Una lanterna. E abbiamo il nostro lampadario. Secondo me è un abbinamento davvero molto carino. Sto testando un sacco di abbinamenti. Se mi verrà in mente qualcos'altro ve lo farò sapere. Per quanto riguarda il castello considerate che adesso abbiamo aggiornato questa piccola area. Ma dovrei fare un po' tutto. E secondo me la caccia anziché l'abbiate come interno meriterebbe. Ci starebbe in questo caso. Oh è notte. Gorico si arrabbia se non vado a dormire. Per una volta sapete che c'è? Vado a dormire nel castello. Perché anche qui ho una camera da letto. Ti è. C'è un effetto che fa il portale Tori nascosto dalla torre in questo modo. Comunque ragazzi. Per l'honeyblock vi stavo dicendo. Che mi piacerebbe sfruttarlo per un drop. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo questa torre. Per salire usiamo o l'elitra o le scale interne o l'ascensore. Diciamo che l'elitra è il metodo più veloce. Ma il metodo più veloce per scendere non è né l'ascensore né le scale e né l'elitra. È il drop. È la caduta. Io ho già fatto un esperimento del genere quando avevano messo gli slime block. Infatti se cadiamo qui dentro. Cado nel buio più totale. C'è uno slime block. Mi fa rimbalzare. E arrivo. In teoria dovevo arrivare sopra ma ho failato l'arrivo. Quindi usciamo da questa parte. Ecco voglio fare proprio una cosa del genere. Tra l'altro lì c'è un creeper. Che potrebbe darci problemi. Quindi andiamo subito a shottarlo. Mentre ancora non ci vede. Mamma mia quest'arco quanto è forte ragazzi. E andiamo anche a uscire da qui. Questa miniera è un fottuto disastro. Vi faccio anche vedere che il raggio del beacon è rosso. Ma ad una certa altezza. Non so perché sfuma. E diventa stranamente bianco. Boh. Non ho capito. Deve essere un bug del render anche questo. Questa parte della base sotterranea è davvero grezza. È tipo una roba che è rimasta così da secoli. Fammi aprire l'elitra così sfuggiamo direttamente. Perfetto. Comunque sia ragazzi. Atterriamo un attimino sulla parte del giardino. Cioè va bene qui. E voglio creare questo drop sfruttando una delle isole volanti. In particolar modo questa. Che è quella meno utilizzata. Perché abbiamo in un'isola. Che è quella lì. L'acquario volante. Abbiamo lì la pianta e l'arrivo dell'ascensore. Nell'altra c'è la campana. Qui non c'è praticamente niente. Possiamo iniziare a mettere qualcosa. Creando appunto questo drop molto pericoloso. Da quello che ho visto svolazzando fuori. Se io spaccassi questo blocco. Esatto. Sono totalmente sospeso nel vuoto. E in teoria laggiù se non ho fatto male i conti c'è il blocco dove andrei a cadere. Questo drop è palesemente mortale. Soprattutto se lo facessi senza queste armature. Ok. Lo voglio fare. Ovviamente voglio provare a fare questa cosa un po' folle. Andiamo a prendere la crafting table. Anzi prendiamo direttamente una botola. Visto che sono già fatte. E mettiamo la nostra botola in questo punto. In modo da chiudere. Insomma mi sembra logico non lasciare sempre aperto questo buco incredibile. Poi prendiamo di nuovo le nostre cose. Ci buttiamo giù. Questa volta con l'elitra. Perché ancora non ho intenzione di schiantarmi al suolo. e teoricamente, dico teoricamente, il punto d'arrivo, vedete ecco dove è caduto il drop, dovrebbe essere esattamente questo. Spero che sia così perché se no faremo una brutta fine. Quindi quello che vado a fare è togliere un attimo questi fiori. Anzi un attimo, praticamente per sempre. E vado a mettere l'honey block qua. Io cadendo in questo punto dovrei essere rallentato dalla presenza dell'honey block, giusto? Vedete che mi rallenta, ok. Quindi dovrebbe teoricamente funzionare. Mi sa che il blocco sotto sarà meglio toglierlo perché non sono sicuro che faccia bene alla causa. Mentre sopra potremmo in qualche modo celare questo blocco mettendo, che ne so, un mezzo blocco o qualcosa. Oppure lo lasciamo anche così, non è un problema. Il danno da caduta è stato riattivato intanto, ve lo ricordate che l'avevo riattivato. Devo darvi dimostrazioni. Mi metto qua, vabbè mentre... Cosa? Ma, ma, ma scusa, scusate un attimo. Ma perché il ghast è riuscito a sparare le palle di fuoco stavolta? Non ce l'aveva mai fatta, ma tra l'altro non è esploso niente. Era solo l'immagine della palla di fuoco. In realtà non c'era l'entità, non è esploso niente. Mi ha fatto prendere un infarto, oh. Gaston, ma che stai facendo? Vabbè, facciamo da qua, vi faccio vedere che il danno c'è, ok? Ok, avete visto? Danno da caduta c'è, confirmed. Per assicurarmi di essere nella posizione esatta, io questo lo devo levare e dovrei mettere un O nei bloc qua. Magari facciamo anche due per sicurezza. In modo che io cadendo, sbatto contro questo, sono sicuro di essere dentro di un pixel e di prendere per bene il blocco sotto. Ora, forse senza questo accorgimento non funziona. Quindi, non voglio provare a fare il test perché il dubbio mi ha un attimo fatto frenare. Mettiamola così. Andiamo a riprendere tutto, togliamo l'armatura. Credo che così, però, siamo sicuri al 100%. Che ne dite? Ci provo? Direi di sì. Allora, devo andare contro i blocchi, fare in modo di essere dentro di un pixel e poi lasciarmi cadere. Sembra neanche che sia allineato. Boh, vabbè ragazzi, facciamole e basta. Se no, amen. Vado, ok? Ok? Vai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Very clean! Very clean, ragazzi. Ok, per curiosità, se io cadessi così... Ok, vedete, io sono dentro questo blocco, ma non sento appiccicare. Ok, raga, ho rischiato di fare la figura più brutta della mia vita, perché sarei morto, probabilmente. Tu non devi essere in questo blocco, ma devi essere un pixel dentro l'one block. Vedete che in questo modo si appiccica. Ok, beh, ce l'abbiamo fatta. L'esperimento è riuscito. Abbiamo visto che nella giusta posizione un solo blocco di one block è in grado di attutire totalmente il danno da caduta e di fermarti al limite della morte, praticamente. Figo, figo. Ho voluto testare questa feature e non le altre, perché per il resto è abbastanza simile ai vari blocchi di soul sand, slime block, eccetera, eccetera. Quindi, se verrà in mente qualcosa per quanto riguarda macchinari, sicuramente lo utilizzeremo anche per altro. Intanto direi che l'esperimento è riuscito e sono contento di essere ancora vivo. Non ripetete questa cosa nei vostri mondi, perché come avete visto dall'accorgimento finale ho rischiato davvero grosso, mi sa. Quindi, spero che l'esperimento vi sia piaciuto e soprattutto anche l'utilizzo dell'onecom block. Per questo video dedicato allo snapshot è tutto. Dal prossimo video torneremo un po' alla normalità. Quindi vi aspetto e vi aspetto anche in live stasera alle 20.30 con Minecraft vs Chat. Un saluto da IronBlaze, ciao a tutti!